Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di New Life Allora, siamo stati per due episodi praticamente con Gunter e Michelle E nel frattempo il nostro cagnolino Cucciolo Murphy è praticamente cresciuto Praticamente diventato un cane adulto Praticamente il nostro Jeremia, che qui e vi piace tantissimo Praticamente gli mancano tre giorni per diventare un bambino Quindi magari noi ci stiamo due episodi anche con loro Così poi magari anche da far crescere Jeremia oppure no, non lo so, devo decidere Però vorrei, diciamo, giocare un po' con loro Dato che con The Sims 4 Cagli e Gatti ci stiamo dedicando molto agli animali E invece vorrei anche avere un gameplay dove appunto si gioca normalmente E questo diciamo che ne è la giusta occasione Allora, la nostra Lucrezia va al lavoro Quindi magari le facciamo subito fare una pipì come campionessa Lei va al lavoro alle 5 e lei nemico pubblico Cioè lei ha un'aspirazione di merda Praticamente sicura, materialista, chiassosa e ignobile E... ah! Ma tra l'altro ragazzi La nostra Lucrezia e il nostro Renato Diventano praticamente grandi a breve Quindi magari li faccio passare di età in questo episodio E poi dobbiamo appunto decidere se tenerli con noi Oppure farli vivere altrove Ovviamente se li facciamo vivere altrove Non saranno più simattivi Ma diventeranno comunque Cioè, li utilizzeremo nelle feste e quant'altro Però non diventeranno... cioè non andremo proprio ad avere una puntata con loro Non mi sembra giusto Anche perché già di francioso abbiamo il nostro Anthony Ok, continua questa cosa Lui deve andare tra un lavoro... tra un'ora Ok, dato che ci sei Apri Altre scelte Apri Ti prendi una porzione di questo Mentre tu Che anche mi sa hai fame Ti svegli Altre scelte Apri E ti prendi anche tu una porzione di questo Ce la possiamo fare? Mentre Anthony va al lavoro oggi Oddio, si va anche lui al lavoro Oddio, aiuto Sta facendo pipì Quindi io direi che puoi farti una doccia Riflessiva Così diventi ispirato Lui mi sa che lavora... Ah, come pittore Bene Lei ha un lavoro, sì E va al lavoro fra due ore Ma lavoreremo da casa Perché appunto c'è il piccolo E quindi ci dobbiamo occupare anche di lui Quindi io direi che possiamo Aprire anche qui Prendere un pezzo di qualcosa Questo è il certificato di nascita Io lo metterei sopra Il letto di Geremia Per ora Geremia sta ancora dormendo Per fortuna Ma questa non la possiamo Che bella questa canzone Tutte le luci E... Io l'accenderei questa luce Ah, ma è proprio così Imposta tutte le luci L'intensità Bianca Ok, è il massimo No, no, lavora da casa Ok Così vanno tutti a scuola Tutti al lavoro E rimaniamo con la nostra Aggiorni il profilo sul social network Due volte Guarda video buffi Su sim tv per due ore Ah, molto bene Allora, io direi che puoi già guardarti Un canale Sim tv Oddio, qual è? Per bambini Guarda la tv No, guarda Canale comico Dovrebbe essere questo Sim tv Lui dovrebbe andare Alla... Ah, ciao Murphy In tutto questo A carezza E prima di andare al lavoro Magari riempi la ciotola Per Murphy Così se ha fame Può benissimo Mangiare Geremia ha bisogno di qualcosa Per ora no E sta dormendo Quindi molto molto bene Allora, vediamo se Sim.tv Magari lo dobbiamo fare dal computer Allora, vediamo un po' Internet Ehm... Curiosa Guarda... Ah, sì, sì Dobbiamo farlo da internet Quindi se hai finito di mangiare Io direi che possiamo andare a vedere dei video buffi Ha riempito Sta anche mangiando Ma non va al lavoro? Fra quattro minuti Sì Dai, sbrigati Vai anche tu via Così Voilà Lui dovrebbe fare il livello 7 di pittura Ma non ce la facciamo Decisamente Almeno Non... Per ora Non riusciremo a prendere una promozione con lui Lei intanto è Come lavoro L'avete capito È sui social media E praticamente è il livello 2 E... Ehm... Social network Aggiora lo stato sui social media Fa il solito Studia tantissimo E... Social network Ehm... Condividi l'immagine E poi magari Sempre tramite internet Ti guardi dei video divertenti su sim tv Ah no Devi andare prima in bagno Quindi vai in bagno Abbiamo guadagnato 15 follower Sembra a me praticamente Che praticamente ho pochi follower No bugia Stiamo arrivando quasi a 700 Ragazzi Quindi sono Stracontento Perché questa nuova Questo nuovo gameplay Di The Sims 4 Cani e gatti Mi ha fatto guadagnare Se arriviamo a 600 Praticamente È un centinaio Un 120 Ehm... Follower Quindi sono Molto contento In realtà Ma lui È sveglio Oppure no? Allora Io direi di Ehm... Prima di Lavorare ancora Da casa Direi che possiamo Togliere questo Benissimo E possiamo Dai il cibo A Geremia Gli diamo Dei cereali Così magari Mettiamo dei cereali Ehm... No che si è Editi Senti nel frattempo Eh si è svegliato Si è svegliato Rimbocca le cose No Qua Metti Geremia qui Ah ok Era già uscito La cosa Andiamo Lo prendiamo Subito Così Lo mettiamo A mangiare Io metterei Anche pausa Oddio Geremia ha una canottierina Rosa Un po' bruttina Devo essere sincero Allora Io devo cambiare la luce Ragazzi Perché mi fa cagare Questa luce Questo lampadario È veramente Orribile Non funziona Ci voglio mettere Qualcosa di molto Più forte Illuminazione Questo qui Ci mettiamo I nostri Classici Ecco Il disco Sottile Uno qua Uno qui E uno qui Ah Un po' di luce Dentro casa Perché ragazzi O saranno le tende Troppo pesanti O non so Che problemi No amore Perché sei triste Why Trascurato Per un genitore Assente Ma è qui Voglio dire Dai la bevanda Guarda Mentre mangia Magari Tu ti puoi cambiare Magari non stare in pigiama Dentro casa Cambiati Abiti quotidiani E direi Che possiamo Anche provare A farti usare Il vasino Dato che tra un po' Avrai la necessità Sì infatti Ce l'hai Cosa fa? Ma guai Che cosa sta succedendo? Ah oddio Lui deve Dobbiamo anche Occuparci però Di questo cane Che è cresciuto Tra l'altro Molto bellino Però aspetta Facciamo così Ehm Che di andare a fare I suoi bisogni Nel frattempo Ok Poi A te Andiamo A insegnare A usare il vasino Praticamente È un Un continuo Cagare Questo Questo video Molto bene Dai È l'inoir Amore Sta che va a chiacchierare Vuoi rispondere Ok Rispondiamo A nostra sorella Che fa sempre bene Quello è andato Praticamente A cagare Il cagnolino Avrebbe anche bisogno Di un bel bagnetto E dovremmo togliere Questa vasca Questa Questa doccia Quindi io toglierei Questa doccia Venderei Decisamente E metterei La vasca La vasca Non abbiamo tanti soldi Quindi ci facciamo andare bene Decisamente Questa Ok Il nostro Geremia Sta cercando Di Fai un bagno Con la schiuma Geremia No Fai il bagno a Murphy Perché Puzza Cioè si vede Dal pelo Ma noi dobbiamo Lavorare da casa Quindi magari Aspettiamo Che arrivi qualcuno Magari I ragazzi Da scuola E Però Ci dobbiamo fare Qui il fatto Allora Dobbiamo Aggiornare Il social network Aggiornare lo stato Sui social Decisamente Geremia Quanto ci metti Per cagare Scusami Tesoro Poi magari Giochi Ah quasi finito Quasi quasi finito Ragazzi Ce la possiamo fare Devo fare anche La foto di copertina Ce la farò Ok Ha cagato però In pila Vai Vai a giocare Amore Che carino Che cammina così Lui cosa sta facendo Ah ti stavi occupando Di Murphy Giustamente Rispondi a tua sorella E direi Che devi Assolutamente Aggiornare Lo stato Sui social media Allora Prima di aggiornare La faccio venire qui Decisamente La faccio cambiare Poi mettiamo Geremia qui Sediti qui La faccio cambiare La faccio lavorare Al computer Così faccio la foto Della mamma Praticamente Che lavora al computer Perché E poi c'è anche Il bimbo a casa Abiti Cambia abito Quotidiani E ti metti Socialmente Ad aggiornare Lo stato Facciamo Sì Che carini Io metterei Una super pausa Adesso No vabbè Adoro Aspetta Facciamo così Oddio Aiutatemi Aiutatemi Oddio Aspetta Facciamo così Ah voilà Che carini Ma sì Sono bellissimi Z Z Zacc E zacc Voilà Ce l'abbiamo fatta Raga A fare anche una foto Molto carina Allora No bugia Stavo scherzando Vieni qui Aiuta con La pila Da Lucrezia Francioso Mentre Il nostro Renato Va a fare Il bagnetto Al A Murphy Decisamente Anche se si deve divertire Guardate Murphy Come è puzzolente Qui Abbiamo fatto I due Le due cose Vediamo i video divertenti Su Sim.tv Guarda video divertenti Su Sim.tv Vediamo se ce la facciamo Per due ore Ragazzi E come si fa Internet Con un po' di fortuna Sim.tv 25 5 follower Molto bene Lui Riusciamo a fare il bagno Mi sa di si Lucrezia Tutto a posto Amore Quello non può scendere Mica le scale Ah si si Le scende a gattoni Adoro Ciao zia Perché lei è la zia Una Diciamo Puntata a un episodio di vita Normale di questa famiglia Praticamente Lei per fortuna E' molto amica Con i suoi cognati Praticamente Oddio Ragazzi Camillo Rouge E' diventata E' diventata anziana Divertenti Divertenti Qua I video divertenti Tu sei qui Chi è lei Athena Anderson Adoro 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 Allora Sai che cosa Tu ti devi divertire Quindi vai a fare Jogging energico Che magari ce la fai Lui sta studiando Praticamente Sta impilando Con la zia Decisamente Lui che ha fatto Lui ha fatto tutto Molto molto bene Io direi che Ti Del tempo ansia Vorrebbe venire da te Per passare Vieni vieni Ellie Tanto è a casa di tua sorella Quindi voglio dire Perché è triste Stanchezza dei blocchi Basta Con i blocchi Basta basta Non ti preoccupare Allora Parla del giorno Impara a conoscere Ha bisogno di qualcosa Però no Rallegra Ah lei ha fatto I cosi Benissimo Stra 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 bene Beh io direi che Ci possiamo anche Fare fichi fichi Un po' con il nostro Anthony francioso Secondo me Anthony francioso Lui Cosa sta facendo Sta all'iPad Beh visto che è venuta Io direi che ti puoi guardare Un film Simulazione spaziale Con la nostra Ellie Noire Che si sta facendo Un bagno di fango Ma tutto a posto A casa nostra Lui Ha finito Benissimo Se lo sta facendo Con Wolfgang Praticamente Riordina i giocattoli Allenati per 8 ore Ah Cazzarola Vabbè E pur sempre Un Che cos'è Un ristorante No E pur sempre Un allenamento Direi Fai fichi fichi Con Anthony francioso Lui E' ancora triste Raga No E si sta andando A mettere a letto Da solo No vabbè Conta intelligente Questo bambino Da 1 a 10 Adorissimo Questa mangia E se lo controlla Giustamente Questi fanno fichi fichi Loro si guardano Un film Giusto No E vieni qua Racconta una storia Convolgente Rallegra Ciao Borghene Un segreto E poi ripuliamo Lei Ok Hai finito di mangiare No Ancora no Io direi che puoi Usare Il Qui Il fatto Il gabinetto Oddio Qua possiamo Asciugare Decisamente Finirti Questo hamburger Vegetariano Lui dovrebbe Secondo me Ancora allenarsi Ah no Crea dei dipinti Ragazzi Però deve fare 8 ore Beh Allora io direi Che dopo che mangi Magari puoi andare Dove sta andando Lì Oddio Ha pestato la merda Adoro Adoro Ripuliamo un po' Perché fa tutto schifo Ragazzi C'è veramente Uno schifo Assurdo Tu mangia Tu che stai a fa' Oddio Mi sta Perché È bello che si controlla Il bimbo Adoro Che bello Questo coniglietto Lei è incazzata nera Osserva Ah Renato In tutto questo Stava parlando Con Ellie Beh Io continuerei Spettacola sui vicini E lui Mi sa che non ha Proprio una No si si sono amici Ah bellini Questa stretta di mano Allora tesoro Vai I Vai a fare la pipì E poi Vai a fare jogging Ancora Vai vai Ok Lascia Quello che è Perché così Ti fai 8 ore di E abbiamo fatto almeno La Questa Questa parte Voglio dire Lei che fa Mangia Allora lei Ha bisogno di ottenere 20 amicizie Oddio Consegui livello 10 Di carisma Per finire Tra virgolette Il La Penso Lei la finisca Poi così Vero Ok 5.895 Sì È l'ultima Vorrei Terminarla Con la nostra Tessa Allora Vediamo un po' Le amicizie di Tessa Lei è amica Con tutti Praticamente Quelli che conosciamo Dovrebbe diventare amica Con Jacopo Giorgi Con Manuel Bianchi Ce ne ha un po' Cristina Magari Con Stefania Marchetti Lucas Ce ne sono un po' Di persone Con cui potrebbe Diventare Amica Continua a Mangiare La nostra Lucrezia Sta andando A dormire Il nostro Renato Anche Starebbe andando A dormire Ma noi Li facciamo Fare un bagno Fai il bagno Poi ti fai I compiti E poi Puoi andare A dormire Magari Sedendoti Qui Lui Abbiamo fatto Il livello 8 ore Oh che stress Dai dai Facciamo queste 8 ore Tra l'altro Questo quartiere Lo sapete A me piace Troppo Ah ce l'abbiamo fatta Molto bene Consegui livello 4 Di forma fisica Vai oltre il limite Con lo stato emotivo Energico Per un'ora Possedi due attrezzature Sportive Questo è un po' Difficile Allora Andiamo a riempire Chiamare Murphy Vieni Vieni amore L'ho fatto per te Ciao Quanto è bello Il nostro Murphy Guardate che culetto Che c'ha il nostro Murphy Cioè Adoro Oddio Guardate qui Quando mangia Che carino Troppo bellino Tu magari Sì Ti dovresti fare Anche tu un bagno Appena lui Ha finito Ha finito Credo proprio di sì E se non ha finito Lo facciamo finire E tu vai a dormire Decisamente Fai il bagno Fai il bagno Ah ci siamo Guardate ragazzi A me piace tantissimo Tra l'altro Fare anche queste puntate Un po' più rilassanti Perché veramente Cioè quando Giochiamo a The Sims 4 Cani e gatti Ho talmente tante cose da fare Oppure quando devo far crescere Qualcuno Eccetera eccetera Ho talmente tante cose Tante cose in mente Che poi mi sfugge La vita quotidiana Dei nostri sim E a me piace tantissimo Invece Fare Proprio la vita quotidiana Dei sim Tra l'altro Questa camera ragazzi Mi piace tantissimo Ora la stavo guardando E diciamo che Con Renato E Lucrezia Appunto Siamo arrivati Al massimo Non abbiamo raggiunto Nessuno di questi cinque Diciamo Obiettivi Ma perché Ovviamente Non abbiamo giocato Molto con loro E da poco Che comunque Giochiamo con loro Quindi Assolutamente Cioè ci piace Questa cosa Nel senso che Cresceranno Finalmente Erano gli ultimi Adolescenti Ad essere rimasti Fuori E ragazzi Tra l'altro Vi chiedo Nei commenti Magari Di scrivermi Se volete Che Renato E Lucrezia Rimangano In questa casa Oppure li devo togliere E far vivere Quindi solo Anthony La nostra Tessa Noire Con il piccolo Geremia Anche perché Ho intenzione Fatemi sapere Anche questa cosa Di avere Un secondo figlio E non lo voglio avere Tanto tardi Lo voglio avere Quasi Adesso Perché tra l'altro Geremia Sta quasi Per crescere Cioè Gli mancano Tre giorni Quindi volevo Praticamente Farlo A breve Quindi fatemi sapere Tutto nei commenti Ricordatevi di mettere Un mi piace Se questo video Vi è piaciuto E di iscrivervi Al canale Se ancora Non l'avete fatto Io aspetto Le vostre considerazioni E niente Ragazzi Vi mando un bacio Da vostra Niente Danzo E ci vediamo Al prossimo Episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.